La festa in campo e la festa in piazza Duomo per il quinto scudetto dell'ITAS. Trentino volle che ha vissuto una stagione esaltante grazie anche alla promozione in A1 della squadra femminile. L'ITAS rimane la squadra da battere nel maschile, mentre per le ragazze la massima serie è cominciata in salita. In una squadra di grandi campioni il protagonista è Alessandro Michieletto.